Proprio a partire dai semi gettati in questo seminario dei docenti di teologia e degli assistenti pastorali abbiamo deciso come senato accademico di dare vita ad un percorso in università cattolica per declinare il tema della speranza secondo le specificità disciplinari delle 12 facoltà così da pensare alla speranza in medicina in economia nel diritto nell'educazione le scienze politiche nella psicologia nelle scienze agrarie in tutti i saperi coltivati nel nostro ateneo con l'idea di realizzare un pieno coinvolgimento dei giovani perché queste questa iniziativa vuole anche rendere i nostri giovani protagonisti del percorso responsabilizzandoli e facendo accendere in loro quella passione che poi consente di guardare al futuro con speranza